Miei amati e leali sudditi, è Sorian Antiquo a che vi parla. Sono stato il vostro imperatore per poco più di due decenni, ma oggi sono di fronte a voi in tripudio. E così quello è l'imperatore Aientia. Sorian Antiqua... Resterò il vostro imperatore ancora per molti anni. Tuttavia, è giunta l'ora di proclamare il mio successore. Vi presento dunque la vostra principessa ereditaria. Ed ecco la principessa. Melia Antiqua! E... è lei? È... è una principessa. Ce ne hai messo di tempo a capirlo. I suoi modi aristocratici erano evidenti, ma addirittura regali. Mia figlia, Melia Antiqua, partirà immediatamente per la tomba. La cercherò l'approvazione dei nostri antenati, per diventare la principessa ereditaria. non è possibile, ma è essere già... è solerà... La cercherò di soli è turfluo. La cercherò di sozietà sono modificata. Hmm.